Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Jurassic World The Game Allora ragazzi, quest'oggi per sbaglio ho cliccato qua perché stavo recattando le monete perché ho detto così, vi preparo una missione ed ho finita Infatti c'è una missione, vabbè comunque abbiamo il pacchetto quindi oggi facciamo la storia e riprovo l'evento della girosfera e secondo me potrebbe riuscirmi bene Allora, iniziamo con la storia Vabbè, quali missioni? Anfibio appena schiuso, caverna misteriosa Va, easy, mi sembra piuttosto facile E qua un anfibio L'imnosceli, acceleriamolo E' fatto Ok Una missione l'abbiamo fatta, magari installiamo pure di livello oggi Ok Ok, questa è finita Mi sa che salgo di livello, si Mi sa che salgo di livello 100.000 creature No, 100.000 creature Ti prego, dimmi che non No, le ho raccolte Nuova decorazione, vabbè, una a caso Questa è la statua dell'Omega Bella Aspetta, dove la metto qua? Devo fare una zona con tutte le statue C'ho anche l'altra statua Aspetta, aspetta, aspetta Questa qua Quella del Di cui non conviene nome Morta e Marex, ecco Vabbè, comunque Finita la storia Perché non ne posso più fare Quanto danno i cenozoici? 160.000 ogni 6 ore O 16 ore Comunque si finisce Questa qua Ogni 6 ore Quindi la posso fare tranquillamente Allora Battaglia Abbiamo sotto la superficie con lo pseoderma Ma Io penso di farmi squadra raptor E lo voglio fare Ormai è deciso Blu Questo Perché mi servono a questo punto tutti i anfibi Gorgosuco Colasauro Qua devo prendere per forza un carnivoro o un altro E forse prendo Lui E Ostaposauro Ok La mia rosa è formata Eccomi qua ragazzi È crashato Nel frattempo ho dovuto rifare la rosa E si è potenziato il dinosauro Allora Qua devo per forza mettere da parte È brutta È brutta quella battaglia Perché ha così tanta vita E io ho così poco attacco Allora Con tre attacchi di lui Non lo posso uccidere mai Quindi ho trovato un'idea Due parate Uno da parte Deve attaccarmi due L'unica mia chance Di poter fare qualcosa L'unica mia chance Mi ha attaccato uno E quindi è come se non avessi fatto niente Perché con quattro Io lo uccido È quello che proverò a fare Ho perso Con quattro lo uccidevo Ma E lui mi ucciderà con uno Che Schifo Vabbè Lo devo uccidere col colasauro Allora Allora Metto da parte Mi sento fiducioso Che nel mettere da parte Sovrappirò Uno Infatti Ok C'ha tre Che vuol dire Che se io faccio così Resisterò anche a questo turno Due attacchi Vediamo cosa può fare Attacca uno e uno lo tiene sempre da parte Come scorta Si sta tenendo uno E io faccio sempre così Sempre in parata lo mette Come cose Ottima Ora se mi attacca tre No No Faccio così No 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 Mi ha cliccato male il tasto Non mi ha attaccato Grazie a Dio Mi ha cliccato male il tasto Stavo per rischiarmi l'intera partita Con questo errore scemo Allora Se ora lui mi attacca sette E fanta No Sei Uno se l'è tenuto Da parte come bonus Beh Io con tre attacchi Lo dovrei uccidere E direi che Ne ne tiro proprio tre E in parata Me ne metto sempre tre Per eventuali danni Che sia successo qualcosa No Lo sapevo Ma perché C'ha quattro Nessun bonus Due Due Sì Ora Attaccami quattro veloci raptor Se il veloci raptor Qua Mi attacca quattro Ho vinto Così Tre Ho vinto Perché teoricamente Settemila dovrei farli Sì 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 Ho vinto Ottima Questa qua Con un solo Con un solo morto Ottimo Molto bene Questa va a finire male Me lo sento Cioè Questa è anche più forte Questa è anche più forte Non ha attaccato C'ha due da parte Devo giocarmela sulla difensiva Attaccami tre Attaccami tre Su Ti sfido Di attaccarmi tre Lo scirope terci in due Oh Una buona notizia Potrei uccidere Niene uno Ma poi mi morirebbe Il colasauro Vabbè dai Uno glielo uccido Su No Ha fatto una scienza Perché ora me lo uccido Con due attacchi Ha fatto una scienza No Tutti e tre Ora Vediamo Duemila Quello è il più scarso Con tre attacchi E metto uno in parata Forse riesco a resistere Con mille Ti prego Tre Ho vinto Ho vinto Ho vinto Questo Girosfera Ho vinto L'evento Girosfera Squadra raptor Premio top Membro della squadra Apriamo Membro della squadra DNA 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 E Blu Bello Blu Vai Il tosto casino Per poi una statua Vabbè Però Cos'è il tosto non disponibile Qua Bello È pieno di pacchetti DNA DNA Mega DNA Micro No non mi sento sto DNA di caporsuco per 6.000 DNA Micro Dimostrazione Colossi potenti I nostri pacchetti Fanno schifo Anfibie Partenza giurassica Vabbè Poi Andiamo qua Vabbè qua non c'è niente Ma prendiamo sto stato Così lo vediamo Stato di blu La metto accanto a quella di eco Ed eccoli qua Due su quattro Raptor Bene Allora Siamo a 10 minuti e 40 Di rec Anche se per voi Non siamo Questo Potrei farmi Sotto la superficie No È un po' lungo Dai Allora Guarda che vi dico Mi faccio Una battaglia PvP Terrestre Allora Veloci Raptor E Teranodonte Gen 2 Non posso Anche se cambio Non ottengo il vantaggio Di tipo Posso Mettere uno da parte No Ho fatto una scienza Può uccidere Beh Sono in ansia Perché questo qua Mi dirà Con due colpi Potrebbe uccidermi No Ok Ok Vediamo cosa fa Messo due in parata Mi aspettavo Se messo due da parte Non lo so Una cosa del genere Due attacchi Vediamo cosa fa Tira uno E l'altro cosa ci fa L'ho messo da parte Quindi Così Ok Sì Giusto A tre Adesso Si attacca tutti A tre E fregato Ma Cioè io ho quattro Lui a tre Mi sembra difficile Che gli venga Da attaccare Infatti Allora Quindi aveva tre Da parte Adesso E ora con tre Da parte È pericolosa Perché potrebbe avere Sette Al prossimo round Se li ha messi Tutti da parte Ma penso che Non la farebbe Mai E io me la rischio Con quattro Da parte Perché Oh Avrei dovuto mettere Quattro in parata A cinque A cinque Con cinque potrebbe Attaccare Non li Li conferrebbe Anche Li conferrebbe Anche Attaccare Cinque Non lo fa Quindi aveva cinque Se io lo attacco Quattro Dovrebbero passare Tre attacchi Per ucciderlo Dire che Se ha cinque Due in parata Penso li abbia messi Bibi Bibi Faccio così E così No Ha tre in parata Che vuol dire Che ora sei Perché Perché mi ha tirato Questo attacco Perché Dai Se ora mi attacca Sei Beh però La sfiga Ci vuole Perché se non Se non mi sbagliavo Quel cosa Non crepavo Vabbè Ora con Rex Lo uccido Uno Due Tre Uno Due E tre Da parte E glielo ucciso Tranquillamente Sì però Non è giusto Perché Mi ha sbagliato Ma in realtà Oggi non sono per niente Manuale Ora se questo tizio Cambia Cosa che fa per forza E attacca tre Gli uccido pure Lo spino Ha perso Se non lo fa Dobbiamo vedere Non lo fa È in mente Ah no Ho capito Cosa vuole fare L'ho capito L'ho capito L'ho capito Lui vuole Lui vuole Che io L'ho attacco Quattro Così mi uccida Col t-rex E lo spino E poi c'è Campo libero Con il brachiosauro Sì tu sei pazzo Eh lo sapevo Lo sapevo Però tu c'hai quattro Pensavo io L'avessi attaccato Ho capito Cosa voleva fare Però lui pensavo Che lo attaccassi Infatti cambia Allora Aveva tre lui Ma sai che ti dico Che io mi suicido Un brachiosauro E mi tengo Campo libero Così E così Mi Mi Preparo Li faccio Sprecare i punti E così Sono tranquillo Io Sei attacchi Cioè se non mi attacca Sei veramente Non ci credo Che non mi attacca Sei Dobbiamo Sei infatti Sì ma non gli è convenuta Per niente Questa mossa Perché ora C'è il t-rex Lo posso Spaccare Di brutto Lo apro Totalmente Adesso Infatti Uno Due E tre Posso anche mettere Due in parata E poi Quindi lo apro Totalmente E quando gli arriva Al brachiosauro Al brachiosauro Lo distruggo Cioè col parasaurolofobi Non brachiosauro Con due colpi È morto Quindi Vabbè Vinta anche questa Dai 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 Molto buono Sette attacchi Gli tiro tutti e sette E voilà Perché cosa voleva fare Parando questi due Parando due Cosa voleva fare Boh Ok Ho vinto pure la pvp Che pensavo di perdere Magari Apprendiamo La ruota Questa qua Giriamo la ruota Vediamo cosa ci capita Dai Anche un po' di gv Mi vanno bene Un dilofosauro Vabbè dai Almeno Un dilofosauro Vabbè ragazzi Io direi che ci fermiamo così Vi ricordo di lasciare like Commentare Condividere Iscrivervi al canale Mettere l'hashtag Belgioco Per ricevere il cuoricino E ci vediamo In un prossimo video Ciao ciao Ciao